Cittadino, ma questo muro mi sembra un po' fuori binario Mi sembra un po' fuori binario questo muro Questo è stato fatto apposto Allora, questa è la sicurezza delle nostre scuole Vedi, è sicura questa scuola Ah, ma questo muro è solido Tu dici? Sì Vuoi vedere che io se mi arrabbio questo qua lo smacco di me Ma tu hai una forza di superman Non puoi utilizzare i tuoi poteri per rompere i muri Ma si vede che sono forte? Tocca, tocca No, no, tu puoi distruggere Guarda, guarda Troppo, sei troppo forte Non puoi smontare tutti i ponti e le scuole e le strade, basta Faccio paura Grazie a tutti Grazie a tutti.